Allora, se dovete scegliere un lato, è sempre preferibile quello sinistro. Vi risolvete un sacco dei problemi se li mettete a sinistra, perché ci possono essere delle patologiche dove se andate a tappare la vena gara di dito, lui c'ha delle conseguenze. Quindi mettete la donna in città sinistra, ma anche il peso, non lo pensate, che se la passa bene. La dinamica è la stessa. Quindi, piano sinistro su, io prendo questa mano e la deposito sulla spalla opposta. Prendo questa gamba e la alzo. In genere, con l'incosciente, se tu li metti così, così restano. Prendi il mento e lo vai a posizionare sopra questa mano che tu hai messo così, in maniera da lasciare verbia il collo. Ok? Da così se gira da solo. Lo spingi su, bacino. Ok. No, lui perché sta così? Sennò la testa. La testa. Lui sa, lui ha preso. La piccola riuscire da parte del pazzio. Però va bene lo stesso. Non era proprio incosciente. Non era proprio incosciente. Allora, in questa posizione c'è un incubito laterale che è abbastanza comodo, non è sconotissimo, ma la cosa importantissima è che qualsiasi liquido biologico dirà fuori non lo puoi inalare. Va verso l'esterno. Ok? Perfetto. Ma lo ripeto?